I saluti sono già fatte, adesso non faccio il protocollo, ho capito? O devo fare in modo diplomatico? A te le sorelle si può fare questo in modo cattolico. Prima di venire qui ho pregato con Papa Benedetto, come ogni sacerdote cattolico lo fa, i Vespri. Dice prima cosa, non faccia un saluto istituzionale. Faccio un saluto da parte mia e dico a tutti, non ho meritato questa illustra lista di presentatori. Io ho detto a Santo Vario se dico questo non me ne credono, non mi credono. Però io ho detto obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, lecete o Geremia o Isaia in italiano, come dice Isaia in italiano? Isaia, grazie, Isaia. Non dico quale versetto e quale capitolo, ma lì è la risposta.